Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Il GFVIP è pronto a un'importante rivoluzione, lo ha rivelato Alfonso Signorini stesso. I motivi? Alcuni problemi di media se.Sembra che sia un momento di grande subbuglio per il GFVIP, che potrebbe dover affrontare una rivoluzione molto importante A rivelarlo è lo stesso Alfonso Signorini, che ha spiegato che le cose potrebbero cambiare già dalla prossima stagione del reality tv. I motivi sono legati ad alcune serie difficoltà di Mediaset che hanno costretto l'emittente a fare un passo indietro Alfonso Signorini si dovrà quindi prendere carico di importanti cambiamenti, cercando comunque di far contento il pubblico e dargli quello che vuole. Una sfida tutt'altro che semplice per il conduttore storico del Grande Fratello Sembra infatti che in Mediaset, e in particolare nel programma condotto da Signorini, siano emerse alcuni problemi importanti che necessitano di un cambio di rotta significativo Qualcosa che, a detta del conduttore, in effetti cambierà il modo in cui i telespettatori guardano in reality I fan si sono subito spaventati per queste indiscrezioni, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima stagione del Grande Fratello? GF VIP in pericolo.Il GF VIP sarebbe quindi in serio pericolo, ma i motivi vi stupiranno, sono gli stessi telespettatori e fan della trasmissione a chiedere una piccola rivoluzione, e Mediaset ha colto l'occasione di queste pressanti richieste per venire incontro anche ai propri interessi economici e provare a fare contenti tutti I fan infatti si lamentano che al Grande Fratello VIP ci siano sempre gli stessi VIP, gli stessi volti, e stanno chiedendo alcune novità per la trasmissione Il problema però è che Mediaset non ha abbastanza soldi per chiamare VIP più conosciuti e importanti, e quindi è spesso costretta a ripiegare sugli stessi personaggi che aveva già ospitato più volte I telespettatori però vorrebbero vedere facce nuove, anche per scoprire nuove dinamiche La risposta di Signorini.Alfonso Signorini, di fronte alle richieste dei fani delle difficoltà economiche di Mediaset, ha colto perfettamente il problema e ha deciso di seguire una piccola rivoluzione nel programma Ai suoi fan infatti ha detto di voler riportare in televisione il Grande Fratello Nip, ovvero la versione classica del reality, quella con persone normali I motivi sono due, dare al pubblico volti nuovi e più vicini ai loro interessi e stile di vita, e al contempo risolvere il problema compensi di Mediaset, che non dovrebbe più preoccuparsi di sborsare molti soldi per invitare i VIP Un guadagno per entrambe le parti, che potrebbe diventare realtà già dalla prossima stagione Ben presto avremo sicuramente novità su questo nuovo progetto di Mediaset e Signorini . Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti